buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di investire punto biz e ben ritrovati un'altra puntata di Turbo Daily vediamo mercati ancora a rialzo nonostante il clima ancora teso tra Russia Ucraina soprattutto oggi in previsione del fatidico incontro dell'Ecofin in merito alle possibili nuove sanzioni che si potrebbero applicare alla Russia nel frattempo assistiamo comunque a una ulteriore spinta rialzista da parte del settore energetico in particolare del petrolio che questa mattina quota insomma mentre noi parliamo quota circa 105 dollari ieri abbiamo fatto un trade rialzista appunto sul greggio quindi in questo caso manteniamo la posizione fino a raggiungimento del target che abbiamo detto essere sui 107 dollari oggi però vorrei focalizzarmi e tornare in realtà anche a parlare dell'S&P 500 quindi vediamo un attimo cerchiamo un attimo di capire futures americani cosa stanno facendo in questo momento andiamo sul grafico per vedere appunto i livelli operativi di quest'oggi il livello d'ingresso che ho optato è 4560 punti andiamo quindi a cercare di selezionare un livello che è molto vicino alla quotazione attuale proprio perché vogliamo sfruttare questo pattern rialzista che vedete qui che si è andato a creare già da inizio settimana e fine settimana precedente questo impulso rialzista a cui abbiamo assistito in realtà già il primo di aprile è senza dubbio un segnale forte un segnale rialzista molto forte c'è stato un ritorno agli acquisti nel brevissimo periodo nell'arco di poche ore quindi sfrutteremo appunto questo segnale andremo a posizionarci con uno stop loss a 4.490 e infine un target a 4.700 il trend di breve ancora rialzista quindi cercheremo di appunto cavalcare quest'onda rialzista andiamo sul sito di BNP Paribas infine per vedere il certificato di oggi vi parlo del certificato MS2 quindi un certificato che ha una leva 4.07 una leva modesta rispetto alle altre agli altri strumenti gli altri certificati che offre BNP una scadenza unlimited quindi non ha appunto una particolare data di scadenza un livello di knockout a 3.479 punti molto distante dai livelli attuali prezzo lettere infine che quota circa 10 euro e 40 centesimi per cui andiamo sulla piattaforma per eseguire il nostro trade è un prezzo individuato un prezzo d'ingresso a 10 euro e 10 centesimi come dicevo prima molto vicino ai livelli attuali per 99 pezzi e seguito il trade andiamo a fare quindi il nostro consueto recap giornaliero abbiamo detto che la strategia è rialzista sull'S&P 500 ingresso a 4.560 punti stop loss a 4.490 e target a 4.700 punti per oggi è tutto come sempre vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di turbodelli